Studenti curiosi, appassionati di sport e giovani delle scuole calcio, è stato un successo di partecipazione la proiezione del docufilm United Campioni fuori dal ghetto che si è svolta all'Università su Rursola Benincasa di Napoli con la partecipazione del presidente della FIGC Giancarlo Abete e del direttore generale Antonello Valentini che hanno ufficialmente invitato l'AfroNapoli United ad una visita a Coverciano per incontrare i giocatori della nazionale. Il grande sforzo che stiamo cercando di fare, ha spiegato Abete, è quello di legare insieme la funzione valoriale dello sport con quella agonistica e la giornata di oggi è una testimonianza di questo sforzo. Il docufilm realizzato da Giovanna More e Celeste Sabatino racconta un grande esempio di integrazione razziale realizzato attraverso la comune passione per il calcio e per i valori dello sport. La storia dell'AfroNapoli United, una squadra di calcio dilettante nata nel 2009 con l'obiettivo di unire in un solo gruppo sportivo giocatori provenienti dai più diversi paesi del mondo, dall'Africa al Sud America. Come spiegano Pino De Rosa, capitano dell'AfroNapoli United e il terzino destro Flavio Sosa-Lauretta. Io e il presidente Antonio Gargiullo ci conosciamo da tanti anni, avevamo un gruppo col quale giocavamo sistematicamente tutte le settimane. Dopo un po' di tempo non riuscivamo più a raggiungere il minimo numero per fare le squadre e man mano abbiamo inserito dei ragazzi di colore che abbiamo conosciuto. Col passare del tempo i ragazzi sono subentrati in modo sempre più preponderante all'interno del numero della squadra, finché poi a un certo punto ci siamo resi conto che dovevamo rivedere il tutto. Non era più una squadra di napoletani, ma una squadra di afro-napoletani. Il calcio rappresenta per me una forma di vita, di un antistress dalla vita quotidiana e anche una nuova famiglia, una famiglia nuova. Soddisfatto il rettore del Sur Rosola Benincasa, Lucio D'Alessandro, che ha sottolineato come il docufilm sia la dimostrazione evidente della straordinaria vocazione all'accoglienza della città di Napoli. È come dire, una volta tanto il racconto di una favola con un inizio per alcuni versi drammatico, perché alle spalle di ciascuna di queste persone ci sono storie molto difficili, che certamente non arriva a un semplice così e vissero tutti felici e contenti, ma dà la sensazione di quella che è la realtà. Una realtà che si può costruire anche in positivo. In questo caso non possiamo dire di aver messo un punto, ma sappiamo che c'è un percorso che si può fare e le nostre ragazze l'hanno fatto vedere benissimo.